My Home, My Destiny, anticipazioni del 22 e 23 novembre, dove vedremo il confronto tra Baris e Zeynep dopo che lui ha scoperto tutto. Sultan ed Emine fanno il loro ritorno a casa di Baris per riprendere il lavoro. Vengono accolte con grande affetto da Aliriza e Savash che, sentendosi ancora in colpa per averle offese, si fanno trovare con due grandi mazzi di fiori e con petali di rosa per festeggiare il loro ritorno. Sultan decide anche di appendere la sua licenza in cucina, così da dimostrare a Doslem la sua professionalità. La sera Zeynep e Baris dovrebbero andare a cena fuori, accompagnati da Nu. Nu, però, che ha bisogno di tempo per cercare Buse, l'amante di Erjan, chiede a Zeynep di cercare di lasciarlo libero almeno per quella sera. L'unica cosa che viene in mente a Zeynep per risolvere la situazione è dire a Baris che andare a cena, coinvolgendo anche Nu, potrebbe destare troppi sospetti alle sue madri, portandole così a pressare Zeynep per conoscere i dettagli della loro relazione. Baris, volendo solo passare del tempo in serenità con lei, la asseconda e lascia libero Nu di fare la sua serata. Arrivata la sera, Alirisa è in un pub in compagnia di una ragazza. Il clima è allegro e spensierato all'insegna di musica ed alcol. Alirisa si diverte, ma nota la presenza di Nu che invece è lì per cercare Buse. Nu non sembra avere successo nell'impresa e quando Alirisa lo invita a bere con lui al tavolo, non può fare altro che accettare per non destare sospetti. La serata continua tra balli ed euforia, mentre Baris e Zeynep cenano tranquillamente in un ristorante. Durante la cena, Baris le regala una borsa a portadocumenti insieme a due biglietti per il viaggio a Sofia, così da non perdere di nuovo i documenti importanti per la partenza. Nel frattempo, non trovando l'amante di Erjan, Nu decide di chiedere ad una dipendente del locale informazioni sulla donna. Purtroppo, per farsi dire ciò che vuole, Nu è costretto a regalare alla donna il suo orologio, non avendo altri soldi per pagarla. Terminata la serata, Alirisa, completamente ubriaco, viene portato a casa da Nu, che è costretto a rimanere a casa insieme a lui. La mattina dopo, Nu e Alirisa dormono sul divano del salotto e vengono svegliati da Oslem e Baris, alquanto infastiditi per quanto successo. Alirisa confessa subito di aver esagerato con l'alcol al pub con Nu e, arrivata anche Sultan, i due ricevono una ramanzina dalla donna, delusa dal loro comportamento. In ufficio, Zeynep intercetta Nu, che le fornisce l'indirizzo di casa di Buse, datogli dalla dipendente del locale. Zeynep, inoltre, gli ricorda di fornirle i soldi della vendita del furgone, così da darli ammeti per sopravvivere in carcere. A casa di Baris, Alirisa pensa che Sultan sia arrabbiata con lui, più che con Nu, per essere stati al pub, perciò sospetta che la donna inizia a provare della gelosia nei suoi confronti. È innegabile, infatti, che Alirisa sia lusingato dall'atteggiamento di Sultan, perché forse tra i due sta iniziando a nascere una simpatia speciale. La sera, Zeynep raggiunge al suo indirizzo Buse. La donna non vuole saperne di discutere con lei. La realtà dei fatti è che la donna riceve sì i soldi da parte di Erjan, ma non è minimamente interessata alla sua situazione carceraria, né tantomeno a quella di Meti. Zeynep cerca di insistere e le chiede di parlare comunque con Erjan, ricevendo un secco no come risposta. Delusa e sconfitta, Zeynep si trova ad un punto morto del caso. Tornata a casa, spiega la situazione a Nu e Gemile. Non c'è niente da fare, al momento, se non consegnare i soldi della vendita del furgone a Meti, per far sì che almeno possa evitare dei problemi in carcere. Di notte, Baris, che nutre ancora dei sospetti riguardo l'atteggiamento di Zeynep, entra in camera di Savash mentre dorme. Qui, frugando tra i documenti del fratello, trova diversi fascicoli della causa di Meti e i suoi dubbi vengono parzialmente confermati. Forse Zeynep è veramente diventata l'avvocato di Meti e forse anche Savash è coinvolto. La chiama per cercare di placare i suoi dubbi ma, proprio mentre parlano al telefono, sente in sottofondo la voce di Nu che le dà appuntamento per le nove del mattino dopo. A Baris la cosa sembra subito sospetta, anche perché il giorno dopo dovranno partire per Sofia nel pomeriggio e non al mattino. Zeynep cerca di sviare i suoi sospetti, pensando di esserci riuscita. Arriva il mattino, Baris ha passato la notte in bianco pensando al fatto che forse Zeynep gli abbia mentito e la stessa Zeynep si prepara alla partenza per Sofia. L'aereo partirà nel pomeriggio ma lei uscirà di casa la mattina per andare prima a consegnare i soldi a Meti. Neanche le sue madri sanno ancora che lei è l'avvocato di Meti e le saluta al mattino convinte del fatto che stia per partire per Sofia. Nel frattempo, Baris ha attivato il GPS della macchina aziendale che Nu usa per accompagnare sia lui che Zeynep. Decide di seguirli quindi con la sua macchina. Zeynep e Nu arrivano in carcere. Lei ha i soldi che servono a Meti ma non è così semplice farli entrare. Dopo aver mentito sulla natura del denaro, Zeynep riesce ad entrare e ad andare al colloquio con Meti. Finalmente lei gli confessa che Bekir è morto ma che lei sta comunque continuando a cercare di risolvere il caso credendo nella sua innocenza. Dopo aver consegnato i soldi a Meti, i due si congedano. Lui enormemente grato nei confronti di Zeynep per il grande sostegno e lei sconfortata per il caso che si fa sempre più complicato. Ma le amarezze per lei non sono ancora finite. Uscendo dal carcere infatti si ritrova davanti un Baris deluso e arrabbiato. È stata scoperta e adesso dovrà giustificarsi non solo con l'uomo per la quale prova dei sentimenti ma anche con il suo datore di lavoro. Baris fa andare via Nu che aveva accompagnato Zeynep. I due rimasti soli cominciano subito a litigare. Lui è deluso e arrabbiato per essere stato preso in giro da lei e non si spiega come abbia potuto prendere le difese di Meti, l'uomo che l'ha rapita. Zeynep però più che sentirsi in colpa è anche lei arrabbiata. Sapeva già che lui l'avrebbe giudicata per le sue scelte e per questo glielo ha tenuto nascosto. Baris giudica tanto Meti per l'atteggiamento aggressivo e ossessivo che ha avuto nei suoi confronti ma neanche lui è da meno. Lui l'ha seguita più volte e ha mandato via Nu così da costringerla ad andare in macchina con lui. Lei non sta difendendo Meti perché lo ha in qualche modo perdonato ma perché crede nella sua innocenza e anche perché la tragica situazione della sua famiglia non ha permesso che loro potessero assumere un altro legale. Baris rimane esterefatto dalle accuse mosse gli da Zeynep e a stento riesce a risponderle. Ribadisce solo il fatto che lei gli abbia mentito sia come uomo che come datore di lavoro. Zeynep ferma nelle sue convinzioni, dà le sue dimissioni e aggiunge anche che non avrà più niente a che fare con gli uomini come Meti e come lui. Baris cerca di farla calmare ma in vano. Zeynep sale in un taxi e va via sotto lo sguardo sconvolto ed incredulo di Baris. Nel frattempo Meti in cella parla con l'anziano. Lo aggiorna sulle novità ricevute da Zeynep e gli dice che da ora in poi se riuscirà ad essere assolto penserà solo al benessere delle sue figlie e chiederà perdono a Zeynep cercando di non commettere più gli stessi errori. Adesso che ha anche ottenuti i soldi che aveva chiesto possono attuare una nuova strategia. Meti ha intenzione di pagare Wessie con i soldi ottenuti così da essere finalmente lasciato in pace una volta per tutte. Nu torna a casa ed aggiorna Gemile su quanto accaduto. Baris ha scoperto tutto e adesso è scontato il fatto che sia lui che Zeynep perdano il lavoro. Gemile è sconfortata dall'apprendere tutto ma dopo l'iniziale sconforto vede subito una possibilità di speranza per Meti. Se Zeynep ha perso il lavoro significa che potrà presentarsi in aula per difendere il fratello adesso che non partirà più per Sofia e chiede anche se Meti abbia ricevuto i soldi che gli servivano. Nu rimane esterefatto sia lui che Zeynep sono rimasti senza lavoro Sakine e Nermin chiederanno spiegazioni non avranno più uno stipendio per andare avanti e Gemile si preoccupa solo di come possa stare Meti. Per Gemile è importante la sopravvivenza del fratello d'altronde loro hanno un tetto sopra la testa e non rischiano la vita come invece sta facendo lui. Nu sconvolto dalle affermazioni della moglie si morde la lingua e lascia in sospeso la discussione. Anche Zeynep torna in casa e alle domande di Nermin e Sakine che non si spiegano il perché la figlia non si è partita per Sofia, Zeynep confessa tutto. È diventata l'avvocato di Meti, Baris l'ha scoperta e lei dopo aver discusso ha dato le dimissioni. Le donne rimangono sconvolte, come ha potuto Zeynep prendere le difese dell'uomo che l'ha rapita non pensando a loro che hanno sofferto e si preoccupano costantemente della sua incolumità. Zeynep ne ha abbastanza, non ha più voglia di dare spiegazioni e giustificarsi per le sue azioni con tutti, soprattutto con loro. Sia Nermin che Sakine hanno assecondato e giustificato per una vita i loro inetti mariti e lei non è altro che il risultato degli insegnamenti che loro le hanno impartito. Se la situazione non cambierà, se anche loro non smetteranno di giudicarla e di cercare di manipolare le sue decisioni, lei se ne andrà, abbandonerà entrambe e vivrà come meglio crede. Entrambe le madri rimangono sconvolte ed impaurite dalle affermazioni della figlia. Tutto ciò che vogliono è non perdere Zeynep e si accordano quindi per sostenere la figlia e non costringerla ad abbandonarle. In carcere, Mati viene deliberatamente provocato dal nuovo detenuto della sua cella che sospetta essere un complice di Weissi. Il ragazzo lo insulta togliendogli dalle mani la foto di sua figlia e strappandola. Mati, accecato dalla rabbia, lo aggredisce e gli intima di lasciarlo stare, minacciandolo in maniera morbida. Molto convincente. Durante l'ora d'aria poi, Mati e l'anziano si confrontano nuovamente. L'anziano lo incita a mantenere la calma e a non mostrare mai i suoi veri sentimenti a nessuno, come è appena accaduto in cella con quel ragazzo. Rientrati in cella poi, l'anziano consegna un cellulare a Mati così che lui possa contattare Zeynep anche al di fuori dei colloqui. L'anziano ha infatti capito che Mati non ha smesso di amare Zeynep e pensa che sentirla possa aiutarlo a gestire meglio la situazione all'interno del carcere, per evitare che la sua rabbia possa cacciarlo di nuovo nei guai. Zeynep riceve così la telefonata illegale da parte di Mati e subito lo incita a disfarsi del cellulare che potrà metterlo nei guai. Mati però non abbandona la discussione prima di essersi sinceramente scusato con lei, per come l'ha trattata e per tutto il dolore e la paura che lei le ha provocato. Zeynep rimane senza parole e non sa proprio cosa pensare. La sera, a cena, Baris torna a casa e senza spiegare nulla di ciò che è accaduto a Oslem e allo zio, convoca subito Savascio per avere spiegazioni riguardo le sue azioni. Baris è furioso. Anche lui, suo fratello, gli ha mentito riguardo il caso di Mati e alla complicità con Zeynep. Savascio non ha problemi nel confessare di aver aiutato Zeynep come amico e collega, che ha ben compreso il perché lei abbia tenuto nascosto il tutto a Baris. Savascio, infatti, lo accusa di essere sempre giudicante nei confronti delle persone che non la pensano come lui. Baris è ormai esausto di tutte le accuse ricevute in un solo giorno e chiede al fratello se ha aiutato Zeynep solo per fargli un dispetto. Proprio questa affermazione porta Savascio ad accusare Baris di far finta di ascoltare le persone e di non sforzarsi di capirle e di essere talmente egoista da non comprendere veramente ciò che lo circonda. Baris chiede infine se suo fratello abbia così poca considerazione di lui da pensare quelle cose e Savascio conferma che lui non è l'unico ad avere poca considerazione per lui, alludendo al fatto che Zeynep non ricambi i suoi sentimenti. Baris accusa il colpo e rimane senza parole. La sera Zeynep si sfoga con Emine dicendosi stanca di tutti i giudizi delle sue azioni. Arriva anche Sultan che non sopporta di vedere Zeynep sempre sofferente. Convince così la figlia e Zeynep ad andare a cena fuori per risollevarsi il morale. La stessa idea viene anche ad Alirisa che dopo aver capito che Baris e Savascio hanno litigato decide di portarli fuori per farli riappacificare e farli svagare. Non prima però di aver fatto confessare a Baris i veri sentimenti che prova per Zeynep. Baris infatti ammette di essere innamorato di lei. Terminano così queste anticipazioni di My Home My Destiny. Non vedo l'ora di raccontarvi il prossimo video per scoprire cosa succederà tra Baris e Zeynep e come andrà la vita di Matti in carcere ora che tutto sembra perduto. Io sono Stefania, come sempre vi mando un abbraccio e vi invito a lasciarmi un messaggio, un commento o un mi piace. Ci sentiamo presto, intanto vi abbraccio.